Ciao a tutti amici e ben ritornati in questo nuovo video di Lapo Life, ma prima di iniziare, sigla! Amici, oggi io devo andare la mia nonna a pranzo e oggi porteremo anche Lapo perché lui si diverte tantissimo. Infatti mia nonna ha una cagnolina, anzi una cagnolona, fra un po' perché è molto più grande di Lapo e loro due si divertono sempre insieme. Lei si chiama Molly e quindi oggi volevo farvi vedere quando lo portiamo da mia nonna e come si divertono. Adesso però devo andare a prendere il trasportino che dobbiamo portarlo in macchina. Lapo vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ho preso, vai vai vai, ecco si è già rilassato, saluta, Lapo ciao, ora ragazzi lo portiamo in macchina, Lapo bene si, andiamo. Eccoci qua, apriamo, vai Lapo, saluta, eccoci qua, ora salgo anch'io e andiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo in macchina e stiamo andando da mia nonna e Lapo è qui dentro il suo trasportino, buono buono che aspetta di arrivare dalla Molly, poi vi faccio vedere come si divertono, si scatenano, corrono da una parte all'altra. A dopo! Ciao Molly! Eccoci ragazzi, siamo arrivati, ciao! Sì sì sì, adesso la parola, la parola. Lei è la Molly ragazzi, adesso la puoi qui. La Poi. Eccoci qua. Oh, vai! Eccoli, ciao! Guardate come gioca. Molly! Guardate come corrono. Oddio! Eccolo, è partito! Aiuto ragazzi, ma non devo raggiungerlo! Dove è andato? Eccoli! Ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao! Si saltano proprio addosso! Andate dentro! Ciao Molly! Ciao Molly! Saluta! Saluta! Ciao! La fa qui che è tutto contento! Oh, la Molly si è rilasciata, guardala! Ragazzi, siamo appena tornati, abbiamo mangiato! Mi siete divertiti? Eh? Mi siete divertiti, eh? Ehm... Noi adesso li lasciamo qui tutto il pomeriggio, così si divertono. E noi ci rivediamo ad un prossimo video della Polife. Ciao! 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 Grazie.